Il governatore di Regione Lombardia, Tilio Fontana, ieri ospite al Dario Sauro condotto da Dario Campione, ha toccato anche il tema Pede Montana, appeso al contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. E nel futuro della Pede Montana c'è il completamento della tangenziale di Como, nella quale per ora è stato realizzato solamente il primo lotto. Ieri, in conferenza stampa dopo la riunione di giunta, il presidente regionale, toccando il tema, aveva dichiarato, se questo governo vorrà schierarsi contro le grandi opere infrastrutturali e quindi anche contro Pede Montana, non potrò che esprimere la mia contrarietà. Per noi è una infrastruttura fondamentale e mi batterò con tutte le mie forze per realizzarla. Concetto ribadito anche ieri sera su ETV. Io sono convinto che oltretutto sia importante e sia più importante la parte che deve essere realizzata, perché consentirebbe veramente di creare un bypass rispetto al milanocentrismo che è quello che distrugge sia da una parte che dall'altra la circolazione. Quindi sono convinto della necessità di questa opera, oltretutto è un'opera sulla quale tutto il centrodestra si è sempre unitariamente concentrato, si è sempre battuto, per cui io non potrei che insistere in questa direzione. Su questa direzione. Sulla gratuità della Pede Montana? Sulla gratuità della Pede Montana sicuramente è una cosa, non della Pede Montana, Sì, della tangenziale. Delle tangenziale di Varese e di Como. È una cosa che ribadisco si dovrà fare. Arriviamo. È però una cosa che si dovrà fare nel momento in cui sarà impostato tutto il lavoro. Cioè noi dobbiamo a questo punto impostare il discorso su finanziamento del secondo lotto. Arrivati a quel punto si potrà arrivare alla gratuità. Arrivati a quel punto si potrà arrivare alla gratuità.